Salve a tutti giocatori, benvenuti in un nostro nuovo video Metagame Report per quanto riguarda il YCQ americano perché effettivamente sono successe delle robine delle robine e non dico Ancient Gear ha fatto il panico cioè ha fatto il panico, nel senso ho visto solo parlare di Ingranaggio Antico ieri, quindi andiamo a vedere che cosa è successo, no? Prima di iniziare, come sempre ragazzi, invito a iscrivervi sulle prime 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 giornate, ricordo che l'iscrizione ci è stata tantissimo e io vi ringrazio, detto ciò andiamo a vedere cosa è successo Allora, YCQ, Trenta Snake Eye, 9 Yubel, 13 Tempi, 3 Runic, The Spirit of the Beast, Labyrinth Kimic Puppet, ma anche i soldi nella mezza momento Così pare un pochino, insomma, molto variegato diciamo però voglio dire, vai a vedere i playoff e... Va bene, comunque andiamo a vedere ma se ci sono stati Allora, partiamo dal basso con Tenpai, Ritual Beast, ancora doppio Tenpai Yubel, Memento, uno Snake Eye che torna a superare 1000 dollari Snake Eye, Yubel, Snake Eye, poi andremo a vedere ovviamente Ingranaggio Antico Gimic Puppet, Horus, Runic, le cose sono uguali quasi Tear Lamens, Vankish Soul, Snake Eye, Fire King, Snake Eye, Labyrinth Ultra Economico Ancora Tempai, Snake Eye, Snake Eye, Runic, scusate se li apro tutti insieme ma almeno li ce li abbiamo tutti Poi andiamo in top 16, tanto vedete più andiamo avanti e più si va nelle top insomma Snake Eye, poi abbiamo Snake Eye, Yubel e doppio Snake Eye che torna a vedere se sono gli stessi dei playoff Allora, Tempai Dragon, top 64 Allora, va a giocare ovviamente il doppio Perché ovviamente si giocano due perdi soli di lui E ok, non mi pare ci sia troppa differenza da come viene giocato Anzi, si giocano anche HT Mane addirittura Però comunque Droplet di Mane, secondo me, non dico essenziale però Insomma, Ritual Beast, ok Alla Marci Malmi, uno perdi i signed, quindi Triple Hara Elder, Kandauk, Triple, Mono, Mono e Triple ovviamente Rampengo e Mono di loro Dreadshifter, Flag e Protoss Doppio Inheritance, ok Pit Cavaliere, Pit Cavaliere vuole sempre essere una carta molto interessante Inferno a Femme Banshee e ovviamente le fusioni E una Marci Malmi anche per fare magari da Target a Crossout Potrebbe essere utile perché tanto Ritual Beast non la gioca Ritual Beast si limita a fare Shifter Quindi, va bene Ancora Tempai, lui gioca al doppio Dorotrago Che comunque è una soluzione molto interessante Va più di Link Ok, quindi abbiamo un doppio Dorotrago Sono tutti i doppi, da eccezione di Chundra Qui, vabbè Diversifica un po' l'HT Ok Ma è un reparto Link simile magari Ai Fire King e Snega di turno Allora, Tempai Dragon Triplo, triplo, Mono, Mono Triplo, Marci Malmi, ok Triplo Darko, Triplo Ejeki, Cosmix Hunt Qui va proprio di Cattiveria Pura E va a giocare il numero 49 Ok, buono Ok, no Una carta buona, interessante Comunque ci farà un pochino Ash Droll, Lansea E Drago Kuo Ekimelu Ok, l'HT va a giocare esclusivamente 9 Si limita a interrompere con Shifter Interimpermanence Fismith Yubel E qui, partiamo con Allora, Fismith di solito è triplo Mono e Mono Cioè, si basa su queste 5 carte Il Main L'Extra va a giocare L'Uno per di Lacrima Desire E Aerial Eater Che comunque come ho detto Potrebbe essere molto Importante come carta Doppio Phantom Lui che diciamo Non è sta grande Sto scherzando Non è una grande carta Ovviamente Cesar Lui non gioca Beatrice Però Ok, si limita Tra virgolette A giocare Cesar Vi devo dire Come se fosse una carta scarsa E poi L'Uno per L'Uno per L'Uno per E ok Per quanto riguarda Iubel Mono Mono Doppio Doppio Mono E triplo Ovviamente Apertura Ok Memento Memento Fismi Ecco Memento Fismi Darkblade Tripla Poi abbiamo Toshigo Triplo Triplo Mono Ovviamente D'entraco Tricorno Mono Di tutto il resto Mono Ovviamente Lurri Triplo Mono Ok Tripla E tripla E tutte Ht Bella Trappolina Per negare Vindraco Mono Doppio Lui Ovviamente Ripartigliano Ovviamente Fismi Con lei E Cesar E va bene E Marshmarmie Di side Triplo Ok Scusate Ripeto La voce Ma sapete Che sto In un momento Di Aiuto Allora Fismi Sneakai Da 1000 Passa Dollar Questo gioca Il 3x Del 3x Del 3x Quindi ci va Ma subito Mente Pesante Triple Bonfer Mono Mono Triplo 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 Ash Doppio Populus Ok Il 3x Pianantezza Marshmarmie Puruglia Anche questa Che in realtà Ha diventato Molto interessante Perché effettivamente Anche questa qui È fatta Per Finismith Che non me ne ero Accorto Ma Effettivamente Anche questa È fatta Per Finismith Poi Gioca Beatrice E vabbè Reparto Link Che conosciamo Abbastanza Bene Forse Viene Diversificato Lo conosciamo Abbastanza Bene Con Finismith Sneakai Anche qui Non cambia Non cambia molto Marchmarmie Lei per chiudere Cioè Lei Andrà a settare Con quello Che ci serve Quindi Tecnicamente Anche per chiudere Sai Magari fai Quei 200 danni Alza Esco Addirittura Di side E dark Anche Costella Rattenzione Potrebbe essere Interessante Potrebbe essere Una soluzione Un po' Più diversa Questo gioca Un 1 per di Tract Ok E qualche Vistial Che aiuta Ancora Finismith Yubel Che gioca Fattas Main Di main Nel reparto Extra Uguale Di main Va a giocare Molta meno Roba Effettivamente Perché Questo Lo va a ridurre A 1 Lascia sempre 3 per di lei 2 per 3 per di lodo Mono lui Va a giocare Calis Per andare A bloccare Un pochino Di più E L'accende Snegai Sempre Visbit Snegai Mamma mia Già ne ho le palle Piene Che è simile A quelle che abbiamo Visto In sostanza A meno che non l'abbia Già aperta Due volte Insomma Poi Ho Horus Kimmich Puppet Allora Comparazione Rattivamente Decente Cioè Sono queste E cose E' questo Che fa Cioè 140 euro Sono questi Il resto Cosa niente Il resto E' veramente Cosa niente Allora Quindi abbiamo Unibiru Triple Insetti Poi abbiamo Link up Ok Droplet Lo so Droplet Che Comunque torna Spesso Di main Ok W W Mono W Non è male Ottima soluzione W Mono W Ok Gaming Gaming Puppet Comunque rimane Una soluzione Molto interessante Sia per via Nel budget E anche Addirittura Per meta Perché comunque E' un meta Che c'è soltanto Un archetipo Quasi No Quindi Ti lo lascio Anche Vai passare L'ftk Se parte Stunner unic Che non abbiamo Nulla da dirgli Stunner unic Destiny Shuddle Tierlaments Che comunque Si conferma Nel Gioca come Fenrir Comunque Non è una lista Che Diciamo C'è nuova Perché effettivamente Un grande Garta Perché comunque L'abbiamo Imparata a conoscere Fa quello Che riesce a fare Comunque Non è per nulla Mala Anche Bartofusione Molto buono Insomma Ci consente Di fare Della bella Robina Ancora Rimane Abbastanza Competivo Come mazzo E il costo Non è neanche Così Troppo elevato Quindi Non dovrebbe Essere Più toccato Steakai Fireking Vankish Soul Che va A toccare Determinate Rove Ho letto Che è stato Fatto Proprio Per andare A toccare Determinate Carte Addirittura Allora Fu Dark Ok No Volevo dire Un attimo Se Allora Triplo Vankish Soul Rasen Che fa Dino Poi Mono Dottor Medlove Ok Mono Pantera Mono Valius Mono Heavy Borger Doppio Vankish Soul Yolong Che è anche Fuoco Quindi Effettivamente Alcuni Possono essere Triggerabili Insomma Ok Tra l'altro L'onda Fuoco Aggiungi Anche Vankish Soul Quindi Ti aiuta Magari A aggiungerti Le carte Che ti servono Ripartino Ovviamente Fireking Ridotto Quasi all'osso Però c'è lui E doppio Lui E anche Un barong Doppio Ash Flamberg Doppio Altro Ash Povolus No Triple Ash Scusate Parallel Crow Droll Veler Nibiru Come fai a giocare Con il muscle Jair No Perché per me Troppo roba Mischiata Però C'è che ci Possare Crossout Wanted Sinfo Spoils Bonfire Circolo Island Santuari Tricle Tattiche Stake Your Soul E Manche Il suo Continuo Poi abbiamo Snow Devil Ok Rivele Fino a un dark Terra Fuoco Fa danno E spacca Tutto Vi devo dire In permanenza Reparto Extra Diciamo Uguale Soltanto Che Ovviamente C'è Il Rock Of Vankisher Banshee Banshee Garonix E Simularsi Fend Che rimane Una soluzione Di site Molto Importante Comunque Un mazzo Che effettivamente Dovrebbe Fare Extender A manetta E avere E avere Una board Molto Interessante Che Comunque Ci consente Di Riciclarci No Riciclarci Aggiungerci Un botto Di roba Un botto Di roba Che comunque Ci Ci para Ci consente Di fare Danni E chiudere Anche Con lui In sostanza Quindi Vi devo dire Potrebbe essere Una roba Interessante Hai modo Comunque Di Aggiungerti Quello Che ti Serve La mano Sfruttare Bene Gli effetti Questo Divente Molto Mi pare Si Con terra Ecco Anche Fuoco Ovviamente Quasi Tutti Si Triggerano Con il fuoco Vanno A spaccare Le Minade Gatte Vanno A friggere Tanti Danni Quindi Potrebbe Essere Un mix Interessante A me Non piace Perché Un mix Troppo Elevato Però Insomma Diciamo Che Comunque Di base Come strategia Ci sta Anche Perché Fai Un botto Di danni Faismith Castira Sneakai E quando Mai Andiamo a giocare Doppio Unicorn Monofenrir E Pressure Mono E Burst Mono Sono andato a vedere Soltanto Le carte Castira Perché Effettivamente L'altro Comparto E E Manco Roba Di 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 Exorcista E Metal Tronius Che Può Essere Molto Buono Soprattutto Con Faismith Con Mi Rai Metal Tronius Potrebbe Essere Molto Interessante Soprattutto In Un Mirror Match Con Faismith Se Uno Amphismut Labyrinth Labyrinth Monoporzione 90 euro Ci abbiamo Tutto Quello Che Ci serve Quindi Triplo E Mono Il Resto Un Se Gioco Duality Demise Triple Trattric Triple Labyrinth Big Welcome Simultaneus Mamma mia Sai Che Che Fa' Sta Roba Terror Ice Dragon Però Vi Devo Dire Che È Interessante Perché Comunque Ci Consente Di Avere Un Mazzo Abbastanza Forte Tutti Target Per Fare Lui Tutti I Target Per Fare Lui Vi Devo Dire Comunque È Una Roba Interessante Perché Ci Consente Di Comunque Avere Un Mazzo Strano Però È Un Labyrinth Interessante Che Comunque Ha fatto La top 32 Quindi Voglio Dire Non Fa Così Schifo Poi Side Con Qualche Runic Lui Fa Sempre La sua Sporca Figura Poi Abbiamo Tenpai Tenpai Doppio Driblo Doppio Mono Mono Doppio Fenrir Lady Main Questo Tantissimo HT Questo Tantissimo Nella maniera Più Assoluta Santa Glo Ko Gimeiru E Bistial Ok Fenismith Il primo Che gioca La silhouette Primo Che gioca Silhouette Con La Asurune Che È Una Delle Più Giocate Effettivamente Con Lui Ce l'ho Visto Giocare Veramente Tante Tante Volte Perché Comunque Può Negare Delle Evocazioni Quindi È Una Carta Molto Interessante Abbiamo Triple Ash Mono Mono Doppio Ci va Di Di Bistial Comunque Ci va Tanti Di Bistial Lash Ghost Ogre Nibiru E Venere Anche D.H.T Insomma Che Loro Più o meno Possiamo Anche Considerare Quasi Bonfire Mono Ok Quello Che Il Minimo Indispensabile Carte Magia Ok Silhouette Che Cambia Soltanto Nell'Extra E Va Bene Lui Gioca Abbiatrice Vi devo dire Questa è già una versione un po' più che mi piace Anche se effettivamente non è che Finismith Snake Eye Ancora qua Niente da dichiarare Ci preno c'è molto più roba di extra Necchi di side Comunque Lei sempre Di side E ok Standard Unic Anche qui Nulla da dichiarare Questo Buono Perché Temere La Battleface Vi devo dire E ok Abbiamo Fismith Snake Eye Ah Cicciolo Dove Lo spell Canceller Ma Nega le magie Se riesce A calartelo Voglio dire Non è male Ok Quora E qui Insomma Non è cambiata Troppissimo Lei viene giocando Ogni tanto Quindi Buono Tempai Dragon Ah questo Gioca 3x Tutto Questo Tempai HT Resort Droplet Ok Ancora Standard Unic Adesso si differenziano un po' Però Top 16 Sempre top Importante Comunque Fismith Snake Eye Triplo Mono Doppio Ok Ok Cioè l'abbiamo visto soltanto in una versione Lui in 3x E basta Comunque sopravamo che si giocassi in monocopia Anche l'extra deck Anche l'extra deck Comunque non cambia molto E va bene Questi 3 sempre di side Prende despia Si va un pochino a cambiare Abbiamo Alluber Tipo Mono Triplo Albats Cartesi Doppio Doppio Wm Mono Triplo Albion Gimic Puppet E ok Beneficio 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 Tipo Deployment Va bene Arche Ruler Book Doppio Droplet Trust Talent Beneficio 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 Cambiare più di tanto Anche questo qui Vabbè In sostanza Quello è il mazzo Solamente Però vedo Che La sfera Di là Viene giocata Molto più spesso Molto più spesso Anche perché Magari Le borde Finiscono Qualche Mostra In più E comunque Vai a togliere Sempre Della roba Poi lei Ti ritorna Quindi Ok Finis Metti You Bell Sempre Un mono Nibiru Ok Doppio Triplo Va bene Questa volta Ho giocando Eperti Triplo Triplo Mono Dark Ruler Mono Tract Terraform In talent Colled Pensavo Che Ci fosse Un Crossout Invece No Un mono Nibiru Perché Può Sempre Essere Utile 10 Vabbè Le carte Fusione Va bene Ma pure Questo Intanto Intanto No Sono due Carte Che sono Abbastanza Giocate Effettivamente Hanno fatto Due Carte Interessanti Ne abbiamo Parlato In un video Che poi Andremo A vedere Cioè Andremo A vedere Insomma Ancora Tenpai Un po' Più Classico Nage Un po' Più 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 Accattivo Al Solito Questo Per Limitare You Bell Molto Molto Interessante Poi Abbiamo Fismith Snekay Ok Già Una Versione Di Ameno Design Leggermente Diversa Ma Che Conosciamo Poi Ash Flamberg Ok Il Radio A quello In sostanza Va a cambiare Veramente Veramente Poco Poi Vabbè Qui C'è Magari Le infusioni Sono un po' Più Ridutte All'osso Ok Poi Abbiamo Top 4 Ecco Quindi Fismith Snekay Mamma Mia Cioè Comunque Non Ehm Il Mazzo È Quello Mazzo È Quello Ma Tanto Andiamo A Vedere Comunque Fismith You Andiamo A Vedere Insomma Maduro Chronicle Le Due Finalisti Proprio E Poi An Gear Ok Questo Non Gioca Due Comunque Radio Classico È Uno In Sostanza Fismith Snekay Secondo Posto Triple Mono Mono Doppio Mono Triplo Mono Triplo Doppio Cosmo Murnier A cui Proprio Fancetto C'è Mette tutte HT Tutte Quelle Che Puole Ammesse Anche Con I Bistian Qui Diventa Già Molto Più Complicato A Giocarci Attorno Perché C'è Troppa C'è Troppa C'è Troppo Ht Poi Eppure Questa Qui Non Aiuta Perché Comunque Se Riesce A Pescare Un Botto Di Roma C'è Tutto Parato Dark Ruler Angel Of Blue Tears Ok E Il Vincitore Finis Mitten Snegaia Anche Questo Qui Mi Sa Che Va Con Tutte Le Ht Possibili Gioca Di Main Gioca Più Bistial Nipiru Viller Cosmo Murnier Il Rato Di Loro È Sempre Lo Stesso Sostanza Mono Mono Doppio Mono Triplo Mono Triplo C'è Ok Gioca Siluate Con Asurune Va Bene Voglio Vedere Un Attimino Scusate Se Le Listie Sono Le Stesse Voglio Un Attimino Mi Sandino Ok No Non Sono Per Foto Di Interruzioni Ht Di Sorta E Andiamo A Vedere I Play Off Allora Anche Qui Rate Uguale Cambiano Soltanto Le Ht E Il One For One A Diritto Quasi E Anche Qui Di Extra Sempre Questa Qui Non C'è Molto Di Discutere Perché Il Mazzo Ormai È Quello Questo Gioca Nell' Obbedienza Che Ti Devo Dire Può Giocare Anche Fismith Addirittura Però C'è Il Rato Di Mostri Da Fino A In Graver E Questo Poi Vanno A Cambiare L'Ht Bistial Di Sorta Anche Le Magine Trappole Più O Meno Sono Quelle Lì Anche Se Giocare Sempre Ttt Insomma Di Ma Perché Comunque Ttt Fa Tanta Roba Però Il Mazzo Comunque Riesce A Giocare Anche Sotto Tante Ht Quasi Quindi Poi Certo Certo Se Deve Fermare Perché Magari Sono Troppe Però Insomma Voglio Dire Tanta Tanta Roba Ma Adesso Andiamo Comunque A Vedere Il Principe L'Hunside Gear Perché Ha Fatto Il Panico Perché A Quanto Pare La Fortress Era Una Garta Troppo Potente Non Era Troppo Potente Perché Non Pote Comunque Attivare Niente Risposta Agli Anche Gear Perché Questo Intanto Era Fortissimo Gli Era Giocata Perché Un Maggio Trappone L'Avversione Era L'Imbalzi E Ha Fatto Anche Questo Qui Quindi Molto Molto Bene Anche L'Avvocato Ha Giocato Anche L'Avvocato Il Cristo Avvocato Qui Che Una Roba Assurda Quindi Andiamo Vedere Come Composto Questo Mazzo Che Non Effettivamente Non Ho Fatto Doppo Ma Fatto Veramente Quindi Ballet Train Rector Dragon Addirittura Quindi Voglio Dire Dark Golem In 2x Con Lancer Gear Golem Regulus Mono Lancer Gear Dragon Quindi Devo Dire Che Poi Si gioca Normal Manca Special Lui No Quindi Voglio Dire Ti Vai A Troppo Togliere La Normal Di Turno Ovvio Che Te Tiplo Tanker Mono Gearbox Doppio Dr. Crow Commander E Mono Taniguku Ok Che Vabbè Si Effettivamente Poi Abbiamo La Tripla Anzengear Advance Un quantino Molto Molto Forte Ci consente Anche Di fare Normal Abbastanza Grosse Tripla Fortress Che Non Fa Targettare Anzengear Non può Sessi Ottimitare Effetti Le Carte E Non Può Attivare Carte Effetti Risposte L'attivazione Gli Effetti Quindi Mi pare Che era Questa Qua Che L'ha Fregato Abbastanza L'avversario Perché Non Riusciva Attivare Bene Le Poi Che Mamma Che Effettivamente È Molto Forte Anche Per Andare Di Secondo Ci Fa Anche Dattino Quindi È Molto Molto Forte Cioè Un mazzo È Effettivamente Molto Interessante Perché Comunque Ci Consente Di Far Partire Vedete Magari Fai Argent Schedule Giochi Questo Effetto Evochi Specialmente Ignorando Le Condizioni Cioè Voglio Anche Le Condizioni Evocazione Quindi Diventa Veramente Un mazzo Molto Interessante Lancer Gear Duel È Un'opera Assolutamente Che ti senti Anche Scoperto Quindi Veramente Molto Molto Forte Cioè Anche Anche Golem Le Carte Che Menzionano Sono Immun Gli Effetti Attivati Dei Mostri Quindi Possiamo Fare Anche Fusione Mandando Mostri Anche Dal Cimitero Quindi Carta Interessantissima Anche Gear Reborn Se Non Costume Molto Anche Ma Raga Vi Devo Dire Veramente Assurdo Un Grande Mazzo Ultimate Anche Gear Va Bene Andando Perforante Non Potiva Carta Maggio Trappola Se Ristrutta Fai Anche Gear Golem Lei Che Fa Anche Mille Quindi Veramente Forte Anche Champion Un'altra Carta Molto Sfruttabile Queen Sembra Vabbè Ovviamente Vanno In coppia Grifon Grifort E Ovviamente Il Ballista Buona Sign Messaggero Di Pace Power Filter Skill Train Quindi Vi devo dire Anche Gear È stata La sorpresa Ovviamente Del YCQ Perché Nessuno Se l'aspettava Ha giocato Bene Riuscito A bloccare Fiera Fismit Snagai Mi pare Quindi Veramente Tanta Tanta Roba Per Un Mazzo Che Doveva Essere Esclusivamente For Fun Comunque Ovvio C'ha Della Roba Meta Assolutamente Altrimenti Il YCQ Non Lo Poteva Giocare Però Non lo Poteva Giocare Bene Però Vi devo Dire Tanta 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 No Ma Un Anche Gear Insospettabile Che ha Fotto Scalpore Detto Questo Ragazzi Fatemi Sapere Voi Cosa Pensate Ovviamente Comunque Come Lista Non è Per Niente Male Vai A giocare Relativamente Abbastanza Bene Ovvio Devi Saperlo Giocare Però Insomma Buono Buono Fatemi Sapere Voi Cosa Pensate Ovviamente Noi Come Sempre Ci Vediamo Nel Prossimo Video E Un Saluto A Tutti